Il molino Maionchi acquistato da Casillo, il gruppo pugliese ha definitivamente acquisito la storica azienda lucchese. Nuova allerta meteo, scuole chiuse in molti comuni domani, dalle 23 di questa sera alle 17 di venerdì annunciata neve in tutta la valle del Serchio. Nuove tariffe per Mense e Scuolabus, il comune di Lucca ha annunciato le novità per l'anno scolastico 2015-2016, le tariffe saranno modulate in maniera proporzionale all'Ise. Levata di scudi contro la chiusura degli uffici postali, la battaglia è appena iniziata ma promette di essere lunga dopo la piana, disagia anche nella valle del Serchio. Lucchese cerca il blizza a Pontedera, allenamento sul sintetico di Montecatini Terme per la truppa rossonera, Chianese ancora a parte ma Galderisi recupera Rajcevic. Il Gesam Lemura guarda al sesto posto, la sconfitta di Ragusa non inficia più di tanto le prospettive play-off della squadra di Diamanti. Le bianco-rosse non dovranno fallire però al doppio appuntamento casalingo con Trieste e Vigarano. A tutti voi la più cordiale buonasera e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Dunque il molino Maionchi è stato acquistato dal gruppo Casillo. Cambio di proprietà per la molino San Pietro Avvico SRL che entra definitivamente a far parte del gruppo Casillo, leader mondiale in acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano con un fatturato superiore al miliardo di euro. Il passaggio ufficiale è avvenuto il 14 gennaio scorso quando la società pugliese ha rilevato l'attività all'asta fallimentare per circa 2 milioni e mezzo di euro, concludendo un percorso iniziato due anni prima con la nascita della molino di Lucca SRL. Questa società, utilizzando la formula dell'affitto d'azienda, ha rilevato l'attività della molino San Pietro Avvico, che ora è passato definitivamente di proprietà, e del molino Maionchi Silvio Company, un'operazione che ha permesso di riavviare l'attività produttiva, reintegrando anche una parte dei lavoratori che erano stati collocati in cassa integrazione. Il gruppo Casillo ha quindi rispettato in pieno l'impegno preso nel 2013 con la provincia e con l'Associazione Industriali di Lucca, confermando la volontà di investire sul territorio lucchese, che assume ora un'importanza strategica all'interno della propria rete produttiva. Un gruppo industriale che non deve però essere confuso con l'omonimo Pasquale Casillo, che operò a Lucca alla fine degli anni Ottanta, con l'acquisto del mulino Pardini poi fallito. Il gruppo, con una capacità di macinazione e movimentazione di oltre 2 milioni di tonnellate annue di grano, rappresenta uno dei maggiori market maker del mondo nel settore del grano duro, che trasformato in semola, è l'ingrediente principale nella produzione di pasta secca, pasta fresca e pane. Siamo molto lieti di poter dar vita a questa iniziativa, siamo già presenti qui a Lucca da due anni perché conducevamo già l'impianto in fitto dalla curatela e abbiamo già avuto significativi riscontri dal territorio e da oggi, avendo acquisito la proprietà dell'impianto, siamo nelle condizioni di partire con nuovi investimenti. I carabinieri di Viareggio hanno arrestato un 33enne per abusi sessuali su una bimba. A seguito della denuncia presentata dai genitori della minore, è stata avviata dai carabinieri un'indagine, una delicata attività di indagine, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo. La regione toscana ha emesso un'allerta meteo valida dalle 23 di giovedì sera fino alle 17 di venerdì per neve e temporali. L'allerta è moderata per quanto riguarda la neve in Valle del Serchio, criticità ordinaria invece per piogge e temporali nella zona della Versilia, Serchio e Basso Serchio e per vento nelle zone della Versilia e del Basso Serchio. Aggiungiamo che domani febbraio-venerdì le scuole saranno chiuse a Molazzana, Careggine, Fosciandola, in tutti i comuni della Mediavalle, Pescaglia, Coreglia, Barga, Borgo, Amozzano e Bagni di Lucca e ancora per quanto riguarda l'Alta Garfagnana, Minucciano, Sillano, Giuncugnano, Piazza Serchio, Fosciandola e tornando in Garfagnana, Camporgiana e Gallicano. Possiamo dire che insomma nella Mediavalle e nell'Alta Garfagnana le scuole saranno in pratica tutte chiuse. Il Comune di Lucca ha intanto annunciato le novità per l'anno scolastico 2015-2016 in merito alle tariffe per mense e scuolabus. Maggiore equità e agevolazioni limitate ai nuclei familiari residenti nel Comune di Lucca. Sono queste le linee guida della revisione sulle tariffe per mense e trasporto scolastico adottata dall'amministrazione comunale in vista del prossimo anno 2015-2016. Il principio base è quello del sistema cosiddetto lineare. Le famiglie pagano il servizio in maniera proporzionale al proprio Isee. Sotto i 4.000 euro i servizi saranno gratuiti e sarà il Comune ad accollarsi il costo. Da 4.000 a 24.000 euro per la mensa sarà richiesto un contributo che andrà da un minimo di 2 ad un massimo di 5 euro, proporzionale e dunque personalizzato al proprio Isee. Nei prossimi giorni il Comune metterà a disposizione un calcolatore online. Stesso discorso per il trasporto scolastico, da un minimo di 150 a un massimo di 300 euro all'anno. Per le famiglie numerose è previsto l'abbattimento di un ulteriore 10% a partire dal secondo figlio in poi, sia per il servizio di riflessione scolastica che per il trasporto. Le esenzioni e le agevolazioni tariffarie sono destinate solo ai residenti sul territorio comunale lucchese, mentre per coloro che scrivono i propri figli provenendo da altri comuni, le tariffe verranno applicate in misura piena, a prescindere dall'Isee. Domenica ecologica stop alle targhe dispari. È in programma domenica prossima, 8 febbraio, la seconda domenica ecologica che riguarda i comuni di Lucca, Capannori e Porcari. Ricordiamo che sono esonerati dal provvedimento alcune categorie di veicoli, tra cui quelli alimentati a gas, ibridi o elettrici, quelli dotati di contrassegno per persone invalide. Levata di scudi contro la chiusura degli uffici postali. La battaglia è appena iniziata ma promette di essere lunga. Parliamo di quella che cittadini e istituzioni hanno cominciato all'indomani dell'annuncio da parte di Poste Italiane della chiusura di 9 uffici sul territorio della provincia di Lucca. Mologno, Castelvecchio Pascoli e Tereglio nel comune di Barga, Sanginese, Lappato, Vorno, Pieve di Compito e San Colombano a Capannori, Valpromaro a Camaiore. E poi la riduzione di orario per altri sei uffici, San Romano di Garfagnana, Sillano, Vaglisotto, Filecchio, Matraia e Vinchiana. Daremo battaglia. Non siamo assolutamente intenzionati a subire passivamente la chiusura dei nostri uffici postali, per di più imposta dall'alto, senza un minimo di concertazione con le parti in causa, così Marco Bonini, sindaco di Barga, uno dei comuni più colpiti. Il presidente della provincia Baccelli ha subito chiesto un incontro urgente ai vertici di poste italiane. Ritengo inaccettabile questo processo di riorganizzazione, che considero un ulteriore impoverimento dei servizi sul territorio, ha detto anche alla luce del piano di razionalizzazione condiviso nel 2012 con Regione Toscana e Anci. Prese di posizioni sono arrivate anche dall'onorevole Raffaella Mariani, dall'UNCEM e dalla maggioranza del comune di Capannori. Insomma, la battaglia è appena cominciata. Cambiamo argomento e nel prossimo servizio andiamo a raccontare la storia del ladro di bandiere, così ormai chiamato, che è stato denunciato. È stato identificato l'uomo che domenica 25 gennaio si era introdotto nel cortile dell'Istituto Isi Giorgi Fermi e aveva rubato la bandiera degli Stati Uniti. Il furto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della scuola e poi le immagini erano state consegnate agli uomini della questura. I poliziotti, dopo aver visionato i filmati, avevano identificato l'uomo senza ombra di dubbio e una volta giunti alla sua abitazione per una perquisizione, avevano trovato immediatamente il corpo del reato. La bandiera era infatti utilizzata come tenda davanti alla porta di casa. L'uomo, un 59enne di Lucca, con piccoli precedenti penali, è stato dunque denunciato per furto. Oltre alla bandiera americana, in casa aveva anche quella spagnola, anch'essa rubata all'esterno dell'Istituto Tecnico mesi fa. È Paolo Virzi, il vincitore del premio Burlamacco d'Oro 2015, sceneggiatore, regista e produttore, è uno dei più importanti narratori per lo schermo dell'ultima generazione del cinema italiano. Paolo Virzi, in queste settimane, è impegnato nella realizzazione del suo ultimo film dal titolo provvisorio Un po' di felicità. Alcune scene della pellicola saranno girate proprio al Carnevale di Viareggio, durante la sfilata dei cari, in occasione di uno dei prossimi appunto corsi domenicali. Sarà l'attrice Micaela Ramazzotti ad aggirarsi tra i giganti di carta pesta. Presentato a Palazzo Bernardini, il corso realizzato da Fondazione Campus, Fondazione Cirgis e con il sostegno della Fondazione Banca del Monte, dedicato alla gestione giudiziaria dei beni confiscati alla criminalità. Il corso di specializzazione nasce nell'ottica di fornire gli strumenti per arginare l'aumento delle infiltrazioni criminose in molti settori produttivi e la formazione necessaria a figure qualificate, aprendo nuove aree di azione ai professionisti, opportunità di lavoro per giovani laureati, completando le conoscenze giuridiche, sociologiche e tecnico-operative per imprenditori e manager pubblici e privati, questo sui temi della delinquenza organizzata in campo economico. Il percorso formativo fornirà gli aggiornamenti in campo economico, finanziario, fiscale, giuridico e commerciale, che saranno utili all'attività giudiziaria. La Commissione regionale di garanzia ha confermato la sospensione di due anni per gli ex consiglieri mezzo appelli e tolto quella inflitta all'ex sindaco Betti e all'ex assessore Romanini. Parliamo naturalmente della vicenda del PD di Viareggio. Ed ora torniamo in Garfagnana con il tango argentino di Astor Piazzolla, che come ricorderete aveva origini proprio in quella zona della nostra provincia. Presentate le iniziative in programma. Due giorni dedicati ad Astor Piazzolla, due giorni sotto il segno del ricordo del grande artista argentino e delle sue origini garfagnine. Sono quelli in programma sabato e domenica, organizzate dall'Unione dei Comuni della Garfagnana e dal Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, con il sostegno della Fondazione Piazzolla attraverso il progetto Parco del Mondo. Astor Piazzolla rappresenta ciò che di ottimo, straordinario ed incredibile sono riusciti a realizzare i nostri emigranti all'estero e gli oriundi lucchesi nel mondo. Di tutta la loro produzione, di tutte le loro vite, di tutte le loro memorie, noi siamo particolarmente orgogliosi e cerchiamo di aiutare ed essere vicini a tutte quelle iniziative nate anche spontaneamente sul territorio che tendono a dare onore a loro, alla loro memoria, alla loro produzione e più in generale alla storia dell'immigrazione della nostra provincia. Sabato alle 21 al Teatro Alfieri di Castelnuovo è ingresso gratuito una serata dedicata alla musica del maestro e al ballo del tango argentino. Domenica mattina, a Massa Sassorosso, borgo d'origine della madre di Piazzolla, l'inaugurazione di un percorso finalizzato alla promozione della musica del grande maestro e alla conoscenza del tango. In questo fine settimana due eventi importanti, direi di grande livello in collaborazione con la fondazione Astor Piazzolla, la fondazione Cassa di Sparmio di Lucca e gli enti interessati. Uno degli obiettivi principali del nostro territorio è riscoprire l'identità di cui l'immigrazione fa sicuramente la parte del leone. Astor Piazzolla è un nostro conterraneo e siamo orgogliosi di promuoverlo in questo fine settimana. I gnoti si sono introdotti all'interno dell'ex ospedale Tabarracci di Viareggio dove si trova anche il distretto sanitario. Hanno cercato di portare via un computer ma non ci sono riusciti. La scoperta è stata effettuata quando gli impiegati si sono presentati al lavoro. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Concludiamo ricordando l'appuntamento di venerdì sera alle 21 con lo speciale TIGINOIDIDO dedicato questa settimana agli impianti di telefonia mobile dopo le polemiche scaturite dalla realizzazione della nuova antena Telecom in Via Fonda a Sant'Alessio. Possibilità di intervenire come sempre per i telespettatori tramite sms al 348 65 597 92. E con questo è tutto. Ci fermiamo per la prima parte del TIGINOIDOI. Pausa e subito dopo torniamo con le notizie sportive.